Un grande percorso perché le imprese si contano tutte, la strada che percorri è la strada giusta. Noi abbiamo pensato di creare una miscela di esperienza in giovertù, abbiamo pensato soprattutto, sapendo pure che non è più difficile, a non andare dietro a spese polli, perché questo campionato si sono alterati con gli equilibri così, per immaginare, per la serie di questa strada non l'abbiamo percorso, abbiamo cercato di percorre una strada dell'equilibrio, questo ci ha premiato perché siamo riusciti a non fare debiti e nello stesso tempo di patrimonializzare, una tendenza diversa dal passato e oggi ci vede premiati. Beh, io ho cominciato a giocare di serie A, per cui ho fatto 5 volte, 4 volte, mi ha visto sempre vincitore, e comunque è stato il vostro anno che avete vinto, è un motivo di tornare qui, nella mia gente, e uscire a contarla prima, insieme a tutti quanti che si è lavorato, che si è impegnato, che si è comunicato, e quindi questa sera è stata una degna cornice, è un premio anche al nostro lavoro, e noi abbiamo voluto premiare questo territorio, che si è smetta perché è legato ai colori che questa squadra, questa squadra di questi, questa squadra di questi.